Ciao a tutti e a tutte e a tutto ciò che c'è in mezzo. A partire da domani a Dubai... Ma perché questi eventi li fanno sempre a Dubai? Non li voglio pubblicizzare. Inizierà il campionato mondiale i scacchi 2021. Chi è il giocatore di scacchi più forte al mondo? Da dieci anni a questa parte la risposta è sempre la stessa ed è Magnus Karsen, il fenomeno norvegese. Mai come questa volta però c'è un outsider direttamente dalla Russia che sembra avere tutte le carte in tavola per spodestare al trono Re Magnus. Colui che è considerato a tantissime voci il got degli scacchi, il più grande scacchista di sempre o quantomeno uno dei 4-5 migliori della più che centenaria storia degli scacchi competitivi, una delle menti più brillanti che abbiano mai giocato, a quello che è il gioco più diffuso del pianeta Terra. Una robettina così da niente, capi? Si decide solo chi è il migliore a giocare al gioco che giocano praticamente tutti. E ora alcuni di voi si staranno chiedendo ma perché su un canale di ciclismo, in generale di sport, oggi ci troviamo un video sugli scacchi? Ho una risposta. Personalmente, l'ho già raccontato in altre occasioni in questo canale, da qualche anno a questa parte seguo gli scacchi esattamente come seguo uno sport. Sono una delle classiche persone che ha imparato a giocare a scacchi da bambino, gli è piaciuto, ci ha giocato un pochino in varie fasi della vita, quando capitava più o meno, quando ho trovato durante la mia vita qualche amico con il quale per qualche mese, qualche anno, ho condiviso questa piccola passione e magari ci siamo messi a giocare centinaia di partite l'uno contro l'altro. Tutto ciò senza però mai studiare eccessivamente la teoria del gioco, le aperture, e senza mai provare a costruirmi un punteggio negli scacchi competitivi, perché a me piace così. È anche la modalità, appunto, con la quale seguo tanti altri sport. Mi piace fare l'amatore nel tempo libero, prenderla come un hobby, ma nel frattempo studiarmelo molto bene e guardare, osservare i migliori del mondo a fare questa cosa. Per me gli scacchi sono esattamente come lo sport. La loro componente mentale vale almeno quanto la componente fisica di un altro sport ed esistono assolutamente, in tempi recenti, teorie che accomunano parecchio il tuo livello di prestazione mentale negli scacchi al tuo benessere fisico in quel periodo. Ci sono un sacco di soldi in palio, c'è un sacco di tensione nell'aria. Sono eventi seguiti da milioni e milioni di spettatori di tutto il mondo. I giocatori sono delle star, soprattutto in certi paesi, ovviamente, come vale per qualsiasi altro sport, tra l'altro. E vi assicuro che sudano come dei ricci mentre giocano. Quindi non vedo veramente perché gli scacchi non devono essere considerati uno sport, o quantomeno perché non dovremmo fluidificare il nostro concetto di gioco, di sport. Vale anche per gli e-sports, ovviamente. Perché una disciplina non dovrebbe avere legittimità agli occhi della gente rispetto ad un'altra solo perché è più dura fisicamente? E se lo dice uno che ha un canale di ciclismo, direi che lo può accettare un po' chiunque. Il circuito degli scacchisti professionisti e dei campionati mondiali, l'ho scoperto, diciamo, cinque anni fa, più o meno. È una grossissima mano nel capirci qualcosa. Me l'ha data il più grosso canale YouTube di scacchi, che si chiama Agadmator. Agadmator è un ragazzo croato che ho potuto anche conoscere dal vivo quando sono andato a Zagabria nel 2019 a godermi dal vivo un torneo che fa parte del Grand Cest Tour. È un pochino, come dire, la Champions League degli scacchi. I migliori tornei dell'anno, tolto il campionato mondiale. Chi segue questo canale a tempo sa benissimo che c'è questo poster qui alla mia destra. Dalla mia meravigliosa webcam non si vede, ma c'è anche, qui nella parte bianca del cavallo, la firma del buon Magnus, di Re Magnus. A Zagabria, oltre a godermi delle ottime birre, ho potuto provare questa esperienza della quale sentivo l'esigenza di volerla fare, così come ho sempre avuto l'esigenza di voler vederlo sport anche dal vivo, che è estremamente interessante. A tante persone sicuramente risulterà noiosa come idea, ma stare cinque, sei ore solo ad osservare una serie di uomini che muovono dei piccolissimi pezzi di legno all'interno di una scacchiera, cercare di carpire proprio dalle loro microespressioni, dai piccoli movimenti che fanno, mentre sono estremamente posati e non devono lasciare uscire niente al resto del mondo, come un pokerista magari, a vedere cosa provavano e cosa stessero pensando tutti i turbini di pensieri che ha uno scacchista in testa, mentre gioca una partita e nel frattempo rewinda nel proprio cervello le centinaia di partite simili che sono state giocate e che possiede nel proprio database mentale. Devo dire che ho trovato anche un ambiente molto rilassato, ho conosciuto personalmente anche il fotografo ufficiale del Grand Cest Tour, il buon Lennard, che saluto e che ha scattato la maggior parte delle foto che proporrò durante questo video, fra cui questa. Praticamente in questo momento Magnus stava arrivando in ritardo a quello che era, credo, il decimo giorno di gara su 12, e stava usando il ritardo come scusa per non farsi autografare, fermare dalla gente, perché ovviamente essendo lo scacchista più famoso del mondo è sempre quello più atteso e a cui danno più fastidio gli spettatori durante questi eventi. Osserviamo un attimo il fantastico outfit del sottoscritto, ho uno zaino dove c'era praticamente tutto quello che mi serviva per due giorni a Zagabria, ho il cellulare in mano, secondo me mi sta per cadere, ho una birra per ora bevuta a metà, una busta della spesa, zingaropoli pura, e poi in mano ho una specie di scacchiera di qualche materiale plasticoso ma malleabile, che avevo comprato per farmi fare gli autografi dagli scacchisti. Ebbene sì, nonostante io abbia smesso di chiedere autografi agli sportivi da almeno 10 anni della mia vita, quel giorno non mi ricordo chi mi convinse a fare questa cosa. Nella foto successiva sono estremamente felice di riuscire a fare una foto di Magnus da dietro, che però non è assolutamente venuta, è tipo una foto degli UFO, no? Tutte sfocate, con una luce in mezzo, è quella luce, è l'alieno Magnus Carlsen. Ora perché vi ho raccontato questa parentesi felice ma non propriamente dignitosa della mia esistenza? Un po' per il vostro sollazzo, ma un po' perché, attenzione, se sei attratto come me all'idea di osservare questi maxi cervelli che si confrontano fra loro a suon di arrocchi, aperture dai nomi esotici, personaggi veramente, veramente interessanti, particolari, e una serie di partite, vale a dire il mondiale, da seguire dall'inizio alla fine, col fiato totalmente sospeso, e in rigoroso silenzio. In rigoroso silenzio. Quanto non sono lo sport di bacco gli scacchi. Andiamo a vedere chi sono questi due signori che da domani al 16 dicembre si sfideranno per il titolo di scacchista migliore del mondo. Magnus Carlsen, nato a Tönsberg il 30 novembre 1990, se consideriamo la lunghezza in anni del suo dominio sulla scena scacchistica, il modo in cui vince, in cui ha saputo proporre nuove idee, la costanza veramente incredibile che lo accompagna, da quando nel 2013 ha vinto il suo primo titolo mondiale contro Vishwanathan Anand, l'indiano che era stato il grande protagonista dell'epoca precedente degli scacchi, fino a quel momento, è il più grande prodigio degli scacchi degli anni 2000. Magnus Carlsen è perfetto, è l'uomo che vorresti essere. Ti ha anche limonato la fidanzata il mese scorso mentre eri in vacanza in Italia. Perché oltre ad essere clamorosamente intelligente ed enormemente solido nel portare avanti, nello sviluppare la propria intelligenza, anche attraverso tutta una serie di progetti finanziari, imprenditoriali, che porta avanti ormai da svariati anni ed hanno anche un grosso successo, Magnus Carlsen è anche un gran figo, così per sovrapprezzo. È tipo come quando girava la battuta su Cristiano Ronaldo, ma almeno gli puzzano i piedi. Magnus ha sempre avuto un edge mentale sugli altri partecipanti veramente importante che esprime anche attraverso il proprio benessere fisico, la propria prestanza. È solito giocare a calcio con gli amici prima dei più grandi appuntamenti alla sua carriera per svagarsi un pochino, liberare la mente prima del grande picco di concentrazione che dovrà sostenere nei giorni successivi. È stato persino nominato nella lista delle 100 persone più sexy del pianeta o addirittura il primo posto secondo certe riviste che magari sono scritte da un gruppo di sapi o sessuali appassionate di cervello. È diventato gran maestro a 13 anni e a 23 ha vinto il primo mondiale. Nel 2014 ha difeso questo titolo dall'assalto di Vishwanathan Anand che aveva diritto ad essere lo sfidante avendo detenuto il titolo fino all'anno precedente. Poi da quel momento ogni due anni ha dovuto affrontare il vincitore del torneo dei candidati. Ogni due anni si gioca un torneo dei candidati a sfidare il campione del mondo fra gli scacchisti che hanno ottenuto un punteggio migliore nelle classifiche oppure che si sono qualificati vincendo uno specifico torneo molto importante. Nel 2016 ha battuto Sergei Karyakin russo mentre nel 2018 è stato il turno dell'italo-americano Fabiano Caruana. In entrambe queste ultime due occasioni la sfida si è dovuta risolvere alle partite blitz perché dopo le partite a tempo classico si erano risolte in pareggio ma Magnus oltre ad essere il più forte del mondo nel tempo classico è anche uno dei migliori scacchisti di blitz del pianeta. Sono due discipline solitamente abbastanza diverse ma lui essendo praticamente un dio degli scacchi riesce ad eccellere in entrambe. Nel classico fra il 2018 e il 2020 è riuscito a non perdere mai una partita per 125 partite consecutive record di sempre solo nomi come Gary Kasparov Bob Fisher Mikhail Tal Anatoly Karpov Osera Ulca Pablanca e Paul Morphy andando a ritroso nel tempo sono considerati più o meno al livello di Magnus ovviamente è molto difficile determinare chi sia il got degli scacchi visto che qualsiasi scacchista si ritrova a doversi confrontare con ciò che è stato scoperto fino a quel momento e a sviluppare nuove idee a partire da lì. Le partite di Magnus sono con ogni probabilità grazie a questo le più precise di sempre quelle più aderenti a ciò che farebbe un super computer Come si fa mi chiederete voi a battere un personaggio del genere? È pressoché inscalfibile Cosa ti puoi inventare contro uno come Magnus Carson? Che potrebbe essere come dire come fa qualcuno oggi a battere Tadej Pogacar al Tour de France Ma attenzione perché l'outsider ha un piccolo asso nella manica Jan Nepomniaci che per fortuna l'universo occidentale quantomeno non so cosa succeda nella madre patria Russia ha deciso di abbreviare unanimamente il Nepo grazie di esistere soprannomi è nato sostanzialmente per essere la criptonite di Magnus Nepo è un personaggio particolarissimo un gran bello orsacchiotto si è sempre distinto per scelte stilistiche abbastanza interessanti per una plomb enorme ma che sfocia a volte in delle facce notevoli e per giocare delle partite veramente veramente brillanti e pazze per quanto pazzo può essere qualcuno che gioca ai massimi livelli e scacchi e quindi sostanzialmente sta giocando come un computer la particolarità di Nepo è che è veramente un po' un cavallo pazzo per essere uno scacchista e quindi non è mai stato costante abbastanza per arrivare ai massimi livelli ai primi due tre posti del mondo in classifica nella top 10 si è entrato solo due anni fa ma nel suo gioco e nel fatto che sia stato anche un giovane prodigio prima di diventare professionista chi ne capisce di più ha sempre visto i prodromi di qualcuno che può scombinare i piani che può mettere in difficoltà i più forti l'altro motivo per il quale non è mai riuscito ad arrivare al top delle classifiche è che da qualche anno ha deciso di cercare di giocare il più veloce possibile qualsiasi mossa più o meno che gli venga in mente anche nel tempo classico è un atteggiamento che di solito si mantiene solo nel blitz ma lui ha deciso di mettere pressione sugli altri in questo modo a costo anche di perdere più partite rispetto alle patte che sono ciò a cui puntano la maggior parte dei giocatori più forti scacchi solitamente ma con la chance di vincerne un po' di più e di mettere tanta pressione psicologica addosso agli avversari continuando a giocare così è riuscito a trovarsi in una dimensione di comfort nel giocare così veloce ed è diventato immediatamente pericolosissimo l'anno scorso al candidates si è arrivato da outsider ma sinceramente più o meno chiunque mi conosca sa che avevo puntato tutte le mie fish sul buon Nepo perché era in gran forma e a 31 anni Jan Aleksandrovic Nepomniaci nato a Bryansk il 14 luglio 1990 lo stesso anno di Magnus arriva finalmente a giocarsi questa grande chance nel campionato del mondo dopo che in gioventù era già stato la grande bestianiera di Magnus ed è continuato ad esserlo per tutta la carriera è l'unico giocatore in attività che ha un record positivo contro Magnus Carlsen nel tempo classico che a pensarci è pazzesco ma è sempre stato un qualcosa che si sapeva nella comunità e che era nell'aria nonostante appunto Nepo magari fosse dodicesimo della classifica mondiale era l'Anti Magnus e allora questo Anti Magnus una volta che è riuscito a mettere insieme tutto di se stesso e a trovare la sua forma finale che comprende anche il ban lo shignon da samurai che è apparso negli ultimi anni sopra la sua testa e che secondo lui da un'intervista uscita l'altro giorno gli attribuisce un aumento di potenza di over 9000 parole sue è forse lui colui che riuscirà a spodestare Re Magnus dopo quella che sembra un regno infinito lo scopriremo da domani trovate tutte le partite in diretta su Twitch e Youtube sui canali di Cess.com in quella che secondo me è la sfida mondiale più interessante dalla seconda sfida fra Carson e Anand e con ogni probabilità l'ultima sfida mondiale che non comprenderà fra detentore e sfidante quello scrizzolo iraniano fenomenale di Alireza Firuja che pochi giorni fa è diventato il più giovane giocatore di sempre a raggiungere un punteggio elo di 2800 tradotto vale praticamente come Magnus piccola particolarità è nato nel 2003 a 18 anni nella linea storica degli scacchi sembra scritto che ci sarà una grande sfida in futuro fra Carson e Firuja ma nel frattempo attenzione perché con un pazzo come Nepo non bisogna assolutamente scherzare vi lascio qua sotto un link onnicomprensivo con tutti i dettagli sulla sfida e vi consiglio veramente caldamente di provare quantomeno a dare una chance agli scacchi di appassionarvi come se fossero un vero e proprio sport con questo vi rimando ai tantissimi canali che sono nati negli ultimi anni su Youtube di scacchi anche italiani fatti molto molto bene le partite hanno un orario molto favorevole per l'Italia si giocano al pomeriggio Vince che arriva per primo a 7 e mezzo se c'è parità dopo 14 partite si va ai blitz che si giocheranno tutti insieme eventualmente il 15 dicembre in coda vi segnalo lo spettacolare video highlights prima parte della stagione 2021 di Pietresi di me fatto dalla Ki uno dei miei più grandi fan fin dai primi video veramente spettacolare mi sono sganasciato dalle risate vi linko anche quello qua sotto nei commenti datemi i vostri pronostici chi vincerà Magnus o Nepo con questo io vi saluto vi do appuntamento ai prossimi video dove tornerò ovviamente a parlare di ciclismo ciao grazie a tutti Grazie a tutti.